La collera di Dio e degli uomini ha distrutto Norimberga, la città della tortura e del vizio. La mente dell'uomo è al servizio del male. Gli strumenti di tortura sono sempre simili ovunque si vada. Avevano una fantasia veramente diabolica i nostri avi. La vergine di Norimberga, il più efferato strumento di tortura. La donna più desiderata. Sembra che abbia ucciso più di una donna, torturandole nella vergine di Norimberga. La donna e la tortura indissolubilmente legate nell'allucinante orrore della vergine di Norimberga. La vergine di Norimberga, i corpi si abbattono come folgorati. Le menti delirano, i sensi si ottenebrano, la natura si scatena. Perché hanno paura? Perché lui è il giustiziere. Il terribile giustiziere della vergine di Norimberga. Sì, è lei la donna che hai visto nella vergine. La vergine di Norimberga, un enigma tormentoso, un'agghiacciante verità. La furia travolgente dell'acqua e del fuoco. Il peso di nefandi peccati. Una donna, una città prigioniere di un destino malvagio, più spaventoso del tremendo abbraccio della vergine di Norimberga. Max! Max! Madrone! Madrone! Sì, 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 sì.